Ringrazio Massimo Scolari per l'invito e do il buongiorno a tutti voi. Comincio con un paio di slide di contesto su cui andrò rapidamente, ma giusto per spiegare un po' il punto di partenza del lavoro che stiamo facendo sulla finanza sostenibile. Allora, come tutti sapete, nel 2015 con l'accordo di Parigi tutti i governi del mondo si sono messi d'accordo per cambiare il percorso dell'economia verso un percorso sostenibile. La Commissione europea, concia del ruolo chiave che la finanza può avere appunto per il cambiamento verso un percorso sostenibile dell'economia, ha pubblicato nel marzo 2018 quello che qua viene chiamato l'action plan, il piano di azione, con una serie che non è altro che una tabella di marcia di tutti i task da mettere in piedi da qui nei prossimi anni al fine di poter raggiungere appunto gli obiettivi dell'accordo di Parigi. Ho messo questa slide semplicemente per dare il messaggio, adesso avete visto che ESMA per esempio ha pubblicato l'advice tecnico che vi presenterò oggi, però dovete aspettarvi tutta una serie di interventi nei prossimi anni, nel senso che è un tema che sta molto a cuore alla Commissione europea e alle istituzioni europee e su cui vedrete molto lavoro negli anni a venire. Il piano di azione della Commissione come vedete è abbastanza ampio, adesso non mi soffermerò ovviamente per motivi di tempo sui dettagli di ogni azione, ma giusto per darvi alcune idee, alcune flash del livello di ambizione di questo piano potete vedere che include per esempio la creazione di un sistema unificato per la classificazione delle attività sostenibili, la creazione di norme e marchi, una creazione di indici di riferimento, ma non solo, addirittura modifiche ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento sul tema della sostenibilità finanziaria, modifiche alle regole contabili, quindi un piano molto ambizioso e molto ampio. Spenderò due parole invece di più sulle azioni la 4 e la 7 su cui stiamo lavorando anche noi direttamente in ESMA che sono quelle relative appunto alla prestazione del servizio di consulenza, di gestione di portafoglio e più in generale alle attività degli investitori istituzionali. Il punto di partenza della Commissione è stato duplice, da una parte la Commissione ha riconosciuto il fatto che già ad oggi nella legislazione finanziaria europea esiste un chiaro obbligo per gli intermediari di agire nel migliore interesse del cliente, il famoso best interest, quello che però la Commissione ha riconosciuto è che ad oggi non esiste, non è abbastanza chiaro, non è disciplinato in maniera uniforme attraverso i vari atti, il fatto che questo agire nel migliore interesse del cliente necessariamente implica la considerazione degli elementi della sostenibilità finanziaria, perché come si può fare il miglior interesse del cliente investendo per esempio i suoi asset nel lungo termine senza considerare in alcun modo quali sono le preferenze del cliente in materia di sostenibilità finanziaria, qual è l'impatto dei suoi investimenti nel lungo periodo e altro elemento ovviamente collegato strettamente a questa cosa che ha spinto la Commissione ad un intervento legislativo su questo tema è il fatto che ad oggi esiste un grande interesse dei clienti su questo tema, basta entrare in un supermercato, ad oggi è facile per i clienti che entrano a comprare un prodotto in un supermercato scegliere dei prodotti appunto in base al tema della sostenibilità, con meno plastica, con materiale riciclato, eccetera, eccetera, ma ad oggi quando un cliente invece va a investire i risparmi di una vita, raramente gli intermediari gli vanno a fare domande su quali sono le sue preferenze in maniera, in tema di etica, in tema appunto di sostenibilità e di impatto ambientale e quindi notando questa discrasia quello che ha voluto fare la Commissione è di modificare la normativa finanziaria europea esistente al fine di esplicitare questo obbligo per gli intermediari di incorporare all'interno dei propri processi decisionali, di investimento, eccetera, eccetera il tema della sostenibilità finanziaria. Ma andando nel concreto al lavoro che sta facendo ESMA e che ha fatto ESMA nel recente periodo, allora nel luglio del 2018 ESMA e IOPA che è l'altra autorità europea che si occupa di assicurazioni e di pensione hanno ricevuto una richiesta di advice tecnico per la modifica degli atti delegati di tutta una serie di testi normativi che vedete elenquati qua, MIFID II, IDD, USITS, IFMD, Solvency II, quindi come vedete di nuovo un aspetto abbastanza ampio per la modifica appunto, come dicevo, degli atti delegati su una serie di temi che vedete qui elencati inclusi i requisiti organizzativi, il risk management, ma anche la governance dei prodotti. L'ESMA ha finalizzato e consegnato il proprio advice tecnico proprio solo alcuni giorni fa, il 30 aprile. Io oggi mi soffermerò solo sull'advice su MIFID II, ma vi posso assicurare che abbiamo lavorato a strettissimo contatto con i nostri colleghi di Justizia FMD e anche con l'autorità con EIOPA e quindi le cose che vi dirò oggi su MIFID II sono state replicate in maniera quasi identica sugli atti altri legislativi appunto per garantire un alto livello di armonizzazione tra i vari sistemi. Requisiti organizzativi, allora la prima cosa che ci tengo a chiarire è che nella modifica degli atti delegati di MIFID II comunque ESMA ci ha tenuto in questa fase a seguire un approccio principle based. Principle based cosa vuol dire? In realtà che non siamo scesi in un dettaglio molto granulare, molto specifico ed è stata una scelta intenzionale perché comunque ci siamo resi conto del fatto che il tema della finanza sostenibile è in forte evoluzione, quindi sarebbe stato rischioso e anche sbagliato in questa fase inserire dei requisiti di dettaglio ma era meglio rimanere più che altro a livello di principio solamente per almeno creare le premesse per uno sviluppo di questo fenomeno e almeno inserire nel contesto normativo i principi generali. Per i dettagli ovviamente ci sarà tempo poi per il lavoro futuro probabilmente con misure di terzo livello. Ma andando nel concreto sul contenuto del test tecnico posso dire che abbiamo suggerito per esempio le modifiche all'articolo 21 della direttiva delegata che è quella dei requisiti organizzativi generali quindi obbligando le imprese di investimento a inserire nei processi aziendali appunto il tema della sostenibilità. Che cosa vuol dire questo in concreto? Vuol dire che per esempio laddove vi è un obbligo di training dello staff che devono ovviamente avere le competenze necessarie allo svolgimento delle loro responsabilità da oggi in poi questo vorrà dire anche includere training sul tema della sostenibilità finanziaria perché chi presta consulenza per esempio deve essere corrente e conoscere il tema per poter prestare il meglio servizio nell'interesse del cliente. Abbiamo proposto anche modifiche all'articolo 23 della direttiva delegata sul tema del risk management quindi inserendo un nuovo obbligo di integrazione del sustainability risk nelle policy e nei processi di risk management delle imprese di investimento e su questo ci tengo a chiarire per quanto noi abbiamo inserito una modifica solo sull'articolo 23 che include il risk management abbiamo chiarito tuttavia nell'advise che questo implica automaticamente ovviamente un obbligo di controllo esposto poi da parte delle altre funzioni di controllo quindi compliance, internal audit ma anche il senior management delle aziende. E infine sui conflitti di interesse per quanto non abbiamo inserito nuovi requisiti perché ritenevamo che il sistema attuale fosse già sufficientemente chiaro abbiamo tuttavia suggerito un nuovo considerando solamente per ribadire il fatto che ovviamente la distribuzione di questi prodotti sostenibili può ovviamente potenzialmente creare problemi di conflitti di interessi faccio un esempio il rischio che gli intermediari usino questa nuova normativa come scusa per vendere ai propri clienti prodotti più costosi per esempio oppure che ci sia un labeling sbagliato dei prodotti al fine di vendere prodotti che non sono sostenibili a clienti che hanno espresso tale esigenza quindi abbiamo inserito un nuovo considerando solamente per chiarire appunto che le imprese di investimento dovranno individuare e gestire qualsiasi conflitto che dovesse sorgere dalla distribuzione di questi prodotti. Qua cito alcuni elementi chiave considerazioni su cui anche ESMA lavorerà negli anni a seguire il primo è quello del cambiamento culturale ci rendiamo conto ovviamente che il lavoro dei consulenti dei gestori di portafoglio è già complesso oggi perché richiede molte competenze tecniche e molte competenze ovviamente anche relazionali e l'integrazione del sustainability risk nel processo di investimento ovviamente richiede un ampliamento di queste competenze perché siamo di fronte anche a per esempio a dataset, a misurazioni, a concetti non solo quelli legati all'impatto ambientale ma anche per esempio degli investimenti etici che ad oggi non fanno parte purtroppo del bagaglio culturale di tutti gli advisor e da domani ripeto diventeranno un obbligo e non solo per chi presta il servizio di consulenza di gestione di portafoglio ma anche per le funzioni di controllo quindi anche per i risk manager per i compliance officer eccetera eccetera le modifiche suggerite su MIFE 2 non impongono specifiche metodologie questo diciamo nell'ambito della nostra consultazione pubblica sono emerse alcune domande da parte di intermediari domande ovviamente comprensibili del tipo ma come faccio poi ad integrare effettivamente questo sustainability risk se ad oggi non esiste una metodologia ufficiale standard per quantificarlo per quanto ovviamente fosse un requisito legittimo noi abbiamo preferito in questa fase lasciare un po' gli operatori decidere quali sono le metodologie ottimali ovviamente l'idea è che sarà un percorso evolutivo di fronte a modelli magari più semplici sviluppati oggi ci si attenderà invece in futuro negli anni a venire che aumenti la complessità e che questi modelli vengano perfezionati però ad oggi abbiamo intenzionalmente lasciato un po' di libertà agli intermediari su come questo andrà fatto e l'ultimo tema che tocco su questa slide è quello della disclosure giusto per chiarire non è un obbligo che deriva da MIFID ma è un obbligo che deriva da un nuovo regolamento appena approvato dai collegislatori europei non è ancora entrato in vigore ma è stato frutto dell'approvazione dei tre collegislatori che richiederà in futuro nel breve e immediato futuro una disclosure al mercato da parte degli intermediari appunto su come è stata fatta l'integrazione appunto all'interno dei processi dei controlli interni di questo tema della sostenibilità finanziaria quindi diciamo non solo un tema di spiegazione al proprio supervisor ma anche una trasparenza richiesta appunto dalla normativa sui siti internet delle imprese sui bilanci eccetera eccetera secondo dei tre temi che tratterò oggi quindi quello della product governance se siete qui oggi immagino voi siete tutti coscienti delle novità introdotte da MIFID2 sul tema della product governance su cui anche ESMA ha lavorato molto con gli orientamenti del 2018 abbiamo con questo advice tecnico inserito delle modifiche suggerito delle modifiche appunto al framework della product governance anche qua ci tengo a fare una premessa siamo consci del grande impatto che ha avuto sugli intermediari che hanno avuto queste regole sulla product governance e l'intento non era quello di rivoluzionare un sistema che è entrato in vigore solo l'anno scorso l'intento qui era semplicemente di integrare con degli interventi focalizzati molto specifici il tema della sostenibilità finanziaria laddove era necessario ma senza rivoluzionare l'intero framework quindi suggerite modifiche all'articolo 9 e all'articolo 10 del regolamento delegato in maniera speculare quindi obblighi sia per i produttori che per i distributori che cerco di spiegare in qualche parole da una parte l'obbligo di considerare gli elementi ESG ovvero Environmental, Social and Good Governance nella definizione del mercato di riferimento ovvero quando si crea un prodotto come sapete oggi bisogna definire qual è il mercato di riferimento quali sono i clienti per i quali questo prodotto è stato creato e da domani quando entreranno in vigore queste modifiche a MIFID nel momento in cui si identifica il mercato di riferimento andrà anche identificato la variabile non solo per esempio rischio di liquidità rischio di mercato o livello di complessità del prodotto ma anche andrà analizzato ed espresso chiaramente espresso nel mercato di riferimento anche il profilo appunto ESG dei vari prodotti però nessuna modifica al mercato di riferimento negativo anche qua cerco di spiegarlo in poche parole come sapete in MIFID esiste un obbligo quando si crea un prodotto non solo di specificare quali sono i tipi di clienti per i quali il prodotto è disegnato ma anche un obbligo normativo di identificare i clienti per i quali il prodotto non è compatibile con i quali il prodotto non è compatibile sul tema ESG abbiamo preferito focalizzarci ad oggi solo sulla prima parte ovvero ci sarà un obbligo di identificare in maniera positiva i clienti con i quali è compatibile ma non nella parte di target market negativo cerco di essere concreto per spiegare cosa intendo se è un prodotto che ha un label ufficiale di prodotto verde un green bond ovviamente potrò identificare come target market attivo quello dei clienti retail interessati a questo tema qualora sia però invece un bond emesso da un'impresa petrolifera che ha avuto dei problemi per i quali è stato inquinante eccetera eccetera non esiste ad oggi un obbligo normativo per esempio di dire questo prodotto non è compatibile con i clienti che hanno espresso invece delle preferenze in materia di sostenibilità finanziaria e l'ultimo tema anche qua toccandolo velocemente ovviamente non è solo una questione che andrà analizzata in sede di creazione dei nuovi prodotti ma anche in fase di review quindi in concreto questo vuol dire che non si applica solamente a prodotti che verranno emessi da oggi in poi ma in fase di review ovviamente anche ai prodotti che già esistono e che già sono in distribuzione e che al primo momento di review del target market andranno anche riviste alla luce di queste modifiche della norma sul tema della sostenibilità finanziaria come ho fatto per la slide precedente anche qui un paio di considerazioni generali alcuni dei commenti emersi in fase di consultazione pubblica era ok esisterà un obbligo di considerare il tema della sostenibilità nella definizione del mercato di riferimento ma come fare fino a quando non esiste una tassonomia ufficiale europea standardizzata e approvata dalla commissione europea ci siamo resi conto che esiste un rischio di greenwashing però ad oggi l'indicazione è stata quella di continuare a fare affidamento sugli standard nazionali questo purtroppo non è una soluzione ideale perché ovviamente gli standard nazionali sono molto diversi gli uni dagli altri e quindi non facilita l'operatività cross border in un mercato unico europeo e diciamo che questo è stato uno dei motivi per cui nel report che noi abbiamo mandato alla commissione europea abbiamo sottolineato l'importanza di finalizzare appunto la trastornia europea quanto prima possibile appunto e poi un altro tema su cui probabilmente come ESMA dovremo lavorare negli anni a seguire è quello di capire quanto granulare dovrà essere l'identificazione del mercato di riferimento sotto il tema appunto della sostenibilità finanziaria basta sarà un tick box exercise sarà una specie di approccio questo è un prodotto sostenibile sì no io ritengo che ad oggi un approccio così bianco nero non sia compatibile con lo spirito della normativa ovviamente però più si va in un mondo granulare in cui si va a definire per esempio se è un prodotto ecosostenibile quale tipo di impatto positivo ambientale ha questo prodotto più per esempio sulla qualità dell'aria la pulizia dei mari eccetera eccetera ovviamente esiste un limite un bilanciamento un equilibrio che bisogna trovare appunto tra l'approccio troppo semplicistico del prodotto sostenibile sì no e un approccio che sia invece troppo granulare e anche poco comprensibile da parte dei clienti stessi l'ultimo tema che tratterò oggi è quello della valutazione di adeguatezza con cui so che siete tutti molto familiari in questo ambito giusto una nota tecnica in realtà le modifiche a misi 2 sul tema dell'adeguatezza non sono non erano non facevano parte dell'advise tecnico di ESMA perché sono state diciamo trattate in autonomia dalla commissione europea che ha già pubblicato infatti lo trovate già sul sito ha già pubblicato le sue proposte di modifica al livello 2 in realtà non sono ancora formalmente approvate perché contengono alcuni link alcuni richiami al regolamento sulla disclosure che è stato solo recentemente approvato quindi per motivi tecnici appunto è ancora formalmente in bozza però vi invito a darlo a vedere perché in realtà è già stato pubblicato dalla commissione e difficilmente verrà modificato sostanzialmente nelle settimane e nei mesi a venire e che cosa implica diciamo che le modifiche normative su questo tema da una parte inseriscono un nuovo obbligo per gli intermediari di raccogliere informazioni da parte dei clienti in merito alle loro preferenze in materia ambientale sociali e di governance quindi un chiaro obbligo normativo in tal senso collegato alla seconda modifica sotto che una volta che si sono raccolte le informazioni dai clienti bisognerà che appunto gli intermediari consulenti considerino comprendano capiscono ovviamente quali sono le caratteristiche ISG ovvero sostenibili dei prodotti oggetto di consulenza in modo di combinare al meglio di riuscire a far combaciare le esigenze del cliente con ovviamente le caratteristiche dei prodotti che vengono venduti un po' di considerazioni generali anche sulle modifiche appunto sul tema dell'adeguatezza il primo punto che vedete elencato lì è finanza sostenibile versus finanza comportamentale che cosa voglio dire penso che tutti voi siate consci del fatto che già ad oggi sui semplici temi diciamo della finanza classica ovvero rischio di liquidità rischio di mercato e conoscenza e esperienza del cliente è già difficile avere un ritratto veritiero delle caratteristiche del cliente basandosi unicamente sul classico questionario MIFID per i motivi che sono ben noti perché i clienti non sono in grado di fare un self assessment corretto sulle proprie competenze finanziarie perché se gli si chiede qual è la tua propensione a rischio spesso il cliente non è in grado di identificare la propria propensione a rischio di nuovo in maniera corretta questi bias dei clienti che sono stati ampiamente studiati dalla finanza comportamentale sono anche veri nell'ambito della finanza sostenibile e sarà una sfida per gli intermediari per voi stessi definire dei questionari MIFID che riescano in maniera efficiente efficace a raccogliere queste informazioni dai clienti perché non sarà sufficiente non sarà banale neanche chiedere solamente ai clienti hai delle preferenze sul tema della sostenibilità finanziaria molti clienti non sapranno come rispondere oppure ti interessa che l'ambiente preferisci un ambiente pulito probabilmente il 100% dei clienti risponderà sì ma come poi questo possa essere tradotto in maniera efficace in scelte di investimento non sarà facile quindi una sfida senz'altro per gli intermediari metodologie per la valutazione di adeguatezza come ho detto precedentemente abbiamo volutamente scelto nei nostri lavori parlo quando dico noi sia la commissione che ESMA nel suo advice e nelle modifiche che stiamo apportando le linee guida sull'adeguatezza un approccio abbastanza aperto per cui abbiamo per esempio spiegato che sarà possibile sia fare una valutazione di prodotto sia fare una valutazione di portafoglio faccio un esempio pratico di nuovo un cliente che mi esprime esigenze o comunque obiettivi particolari nell'ambito della finanza sostenibile questo vuol dire che non gli potrò mai vendere un prodotto per esempio British Petroleum perché hanno inquinato i mari probabilmente l'approccio da seguire è lo stesso che immagino seguiate per esempio per il rischio liquidità un cliente che vuole un portafoglio liquido l'approccio di portafoglio consente anche la vendita magari di un singolo prodotto che magari ha un orizzonte temporale di più lungo periodo fin tanto che la liquidità generale del portafoglio rimane entro i limiti che il cliente mi ha chiesto stessa cosa per il rischio di mercato e penso stesso approccio per il rischio di sostenibilità di rischio quindi non abbiamo giusto per chiudere non abbiamo specificato una metodologia specifica ma abbiamo indicato che le metodologie che ad oggi vengono usate per i rischi finanziari possono essere concettualmente replicate anche per il tema della sostenibilità finanziaria l'ultimo punto qua del box giallo su cui ci tengo molto a evidenziare la nostra diciamo un elemento critico è che gli elementi ESG non devono prevalere sugli altri criteri della valutazione di adeguatezza diciamo che uno dei rischi qua che abbiamo visto è che ovviamente questo tema della sostenibilità finanziaria possa essere utilizzato da alcuni intermediari poco onesti come scusa per il misselling quello che abbiamo detto nel nostro advice alla commissione è ribadito che ovviamente tutti i controlli che ad oggi esistono nella valutazione di adeguatezza quindi una compatibilità della rischiosità del prodotto con l'obiettivo di rischio del cliente con la complessità del prodotto con il suo profilo di conoscenza ed esperienza eccetera eccetera rimangono comunque dei perni che non andranno toccati da queste modifiche regolamentari quindi diciamo il tema della sostenibilità va oltre e viene in aggiunta agli attuali controlli che dovranno comunque essere fatti per garantire appunto la compatibilità del prodotto con l'esigenza del cliente un ultimo tema che tocco un po' di striscio perché ovviamente perché in realtà non faceva parte del lavoro su Mi Fit 2 per questo vedete il colore è diverso ma deriva dal regolamento appunto sulle ESG disclosure che è stato recentemente approvato dai collegislatori europei è un obbligo per gli intermediari di considerare l'adverse impact delle proprie scelte di investimento quindi nel momento in cui si fa consulenza finanziaria o nel momento in cui si fa gestione di portafoglio andrà data evidenza al cliente eventuali impatti negativi in tema di sostenibilità che avranno queste scelte di investimento ovviamente è tutto un tema da esplorare perché ad oggi su quest'ultimo tema che ribadisco non fa parte delle modifiche di Mi Fit 2 ma ci ho tenuto a evidenziare perché ritengo che sia comunque di notevole impatto quindi pensavo fosse giusto ammettermi al corrente appunto è stato inserito nel regolamento appena approvato e probabilmente sarà immagino oggetto di futura analisi da parte dell'ESA quindi di ESMA ma anche di EIOPA per capire esattamente come poi possa essere implementato in maniera corretta da parte di intermediari io avrei finito con le slide ma giusto un paio di considerazioni generali giusto per mettere nel contesto appunto l'advice di ESMA noi l'abbiamo consegnato il 30 di aprile ovviamente è nella piena libertà adesso della commissione decidere quale parte dell'advice considerare ai fini delle effettive modifiche alla direttiva delegata e al regolamento delegato ovviamente siamo stati in stretto contatto con la commissione quindi non mi aspetterei modifiche sostanziali quindi l'invito è ovviamente a voi di andare già a leggere il nostro advice tecnico e di cominciare a ragionare su come queste cose possono essere implementate una domanda che mi veniva spesso posta è la tempistica ovviamente quando andrà implementato il processo è abbastanza complesso perché ovviamente richiede adesso immagino da qui alla fine dell'anno le effettive modifiche degli atti delegati da parte della commissione che poi garantirà comunque immagino almeno 12-18 mesi a partire appunto dalla pubblicazione degli atti delegati modificati prima della loro reale applicazione quindi è vero che ci sarà ancora un po' di tempo prima che queste novità normative entrino in vigore però spero oggi di aver dato segnale che queste modifiche sono abbastanza sostanziali e richiedono appunto dei cambiamenti abbastanza radicali sul tema della consulenza della gestione di portafoglio ma anche dei processi interni eccetera quindi il mio invito è di cominciare veramente il più presto possibile a cominciare ad analizzare queste questioni e di capire quali sono le soluzioni che effettivamente si possono mettere in piedi perché c'è grande attenzione non solo da parte della commissione ma di tutti i regolatori europei quindi è un tema veramente che sta al centro nei nostri lavori e quindi che riveste grande importanza per tutti noi grazie 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 grazie